Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali, sono le 7, siamo in diretta sul canale 17 di Fano TV, benvenuti a tutti voi cari telespettatori. Partiamo subito dal santo, oggi il 14 febbraio e molti lo abbinano a questo santo martire San Valentino, ma la Chiesa oggi ricorda anche Cirillo Monaco e Metodio Vescovo. Il sole sorgerà 8 minuti dopo le 7 e tramonterà questo pomeriggio alle 17.36. Allora credo che per quanto riguarda il maltempo annunciato che si era detto, sarebbe stato comunque breve, una toccata e via, una piovuta e via anche con il vento, insomma l'allerta per quanto riguarda i forti venti dovrebbe essere già un po' tutto passato perlomeno qua sul Fanese. Ma vediamo il bollettino velocemente della protezione civile delle Marche. Allora avremo un cielo inizialmente nuvoloso sul settore montano, irregolarmente nuvoloso lungo la fascia costiera con addensamenti locali già nel corso del mattino, però avremo schiarite sempre più ampie a partire da nord. Ecco dunque che queste schiarite probabilmente sono già in atto. Quindi di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare intanto delle temperature minime che saranno in lieve aumento. Oggi poi venti, venti che saranno forti comunque lungo il crinale ma anche sulla fascia costiera, ma anche qui penso che abbiamo già dato e il mare sarà evidentemente mosso soprattutto a largo. Per domani, vediamo e concentriamoci sulla giornata di domani, cominciamo con il fine settimana. Domani sarà una giornata serena o poco nuvolosa con temperature minimo in calo, le massime invece saranno in lieve aumento. Per quanto riguarda domenica invece, per quanto riguarda Fano, viverà la seconda giornata di carnevale e ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso con temperatura in ripresa. I venti saranno di brezza leggera. Anche la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da bel tempo e quindi condizioni stabili. I giornali, Corriere Adriatico in apertura, la politica, direzione ombra, il PD a pezzi. Ceriscioli dice faremo le primarie. Riunione della maggioranza senza invitare Gostoli, che è il segretario regionale, la Mancinelli e Ricci. Scende Longhi, il governatore sale in pole position. Dunque una direzione ombra del PD Marche senza il segretario Gostoli e tutta l'area Ricci, convocata alle 18.30 a Danconi in regione, che sancisce la svolta a sorpresa. Si faranno le primarie. È il PD che dunque va a pezzi. Lo schiaffo degli uomini di Ceriscioli alla visita della Mancinelli, che è andata mercoledì da sola da Zingaretti. Basta, dice Ceriscioli, a ora di cena. Via tutte le ombre, adesso decideranno i nostri elettori. A centropagina invece a Pesero la stazione Operazione Sicurezza partono i lavori allo scalo delle Corriere. La sala d'aspetto avrà la biglietteria, previste protezioni alle vetrate, più lampioni e video sorveglianza rafforzata. In prefettura a Pesero c'è stata la giornata del ricordo, un incontro vietato dimenticare l'orrore delle foibe. Andiamo sul Carlino. A centropagina la fotografia di uno dei marinai che è stato soccorso, scontro in mare, gommone e si schianta contro un peschereccio pesarese a Ravenna. E poi doppio furto nel bar dell'ex calciatore della Vis Pesero. Ci sono stati tanti colpi, tanti furti anche l'altro giorno. A Fermignano c'è stato un maxifurto di biciclette da 100 mila euro. Il titolo però è per le primarie, Ceriscioli, Sfido Longhi e le primarie, elezioni regionali, il governatore dato per spacciato. Esce dall'angolo e rilancia la sfida di coalizione. A Baia Flaminia invece il comune accelera sul parcheggio contestato, mentre la Final Eight, subito spettacolo, ma i giovani WL vanno al tappeto, parliamo di sport e di basket, i tesori dell'archeologia, la Domus Romana riapre al pubblico nuovi percorsi per visitarle. Poi sotto, di taglio basso, Fano, due diversi episodi a Carrara e Lazzilla, si denudano per strada, maxi multa, mostrano le parti intime a delle ragazze e dovranno pagare 10 mila euro, mentre a Pesero, musiche e lacrime, oggi l'addio a Guagno dopo il funerale alla Tombaccia, una cerimonia laica al San Decenzio. A Tiosceni presi due esibizionisti a Guati, a Carrara e sulla spiaggia dell'Arzilla, ai danni di una ragazza e di tre amiche che passeggiavano. Sono due fatti distinti, gli episodi risalgono alle giornate di lunedì e martedì scorsi, quando i poliziotti del commissariato fanese, coordinati dal vicequestatore Stefano Seretti, erano impegnati nel controllo e nella vigilanza delle frazioni lungo la strada Flaminia. Il primo allarme è stato lanciato da una ragazza appena diciottenne che si è trovata di fronte al molestatore mentre camminava lungo il ciglio di una strada secondaria. Ripeto, siamo a Carrara di Fano, è una zona poco trafficata. Quest'uomo, dopo aver fermato la sua macchina sull'altro lato della carreggiata, è uscito dall'abitacolo e si è spogliato praticamente nudo davanti al giovane. Questa ragazza, ripeto, diciottenne, ha tentato di allontanarsi, ma l'altro non si è dato per vinto, è salito di nuovo sulla macchina e ha iniziato a seguirla stando dentro. Ha abbassato il finestrino e continuava, insomma, a mostrarle le parti intime. Questa ragazza, giustamente, si è stufata, ha chiamato il 113 e dopo averle spiegato un po' di cose, gli agenti sono riusciti a individuarlo e a denunciarlo. Uno è un fanese, l'altro è un pesarese. Questo qui è un pesarese. L'altro, invece, era in spiaggia, l'Arzilla, si è spogliato completamente nudo, le temperature di questi giorni non scoraggiano evidentemente e dunque si è spogliato dudo davanti a tre ragazze, anche loro appena maggiorenni, mentre queste tre ragazze passeggiavano sull'arenile dell'Arzilla. Anche queste tre ragazze non si sono perse d'animo, scrive Osvaldo Scatassi sul Corriere Adriatico. Di questa mattina hanno preso il cellulare e hanno chiamato il commissariato e anche in questo caso la volante è riuscita a rintracciare l'uomo nudo e è risultato essere un più o meno 30-35enne di Pesaro. Mentre, sempre per quanto riguarda i controlli e le attività del commissariato di Fano, il giornale racconta di due arresti su ordine dei giudici. Sono stati arrestati due fanesi, entrambi sulla quarantina, che avevano precedenze con la legge, con la giustizia. Uno di loro era inseguito da un ordine di carcerazione emesso dalla magistratura pesarese, dovendo scontare la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di lesione, minaccia e discriminazione razziale, episodi avvenuti nel 2015. L'altro invece ha arrestato, il secondo caso, un altro fanese sulla quarantina che è stato portato in carcere con l'accusa di bancarotta. Al via i lavori della vasca di prima pioggia, siamo sempre sulle cronache, le colonne di Fano del Corriere, raccoglierà le acque piovane reflue per risanare il mare. Ed è tanto che se ne parla. E ora finalmente sono iniziati questi lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia necessaria per il risanamento ambientale del torrente Arzilla e per una definitiva riqualificazione delle acque di balneazione interessate nel corso d'acqua. La pagina di Fano del Carlino invece apre con il Carnevale. Il Carnevale è il chiaro di luna, perché è un esperimento che verrà fatto per la prima volta. Questa si chiama La Notte dei Desideri ed è un appuntamento che si terrà domani nel centro storico di Fano. E ci saranno anche i carri allegorici, chiaramente non quelli grandi di prima categoria perché non passerebbero lungo Corso Matteotti, però ci saranno i carri allegorici, quelli un po' più piccoli, e sfileranno lungo il Corso di Fano, un po' come avveniva tanti tanti anni fa quando il Corso Mascherato era appunto in Corso Matteotti. Ci sarà festa, ci sarà musica in Piazza 20 Settembre e appunto tutto comincerà intorno alle 18.30 nell'area del Pincio, dove ci sarà una band cover di Vascorossi, ma poi insomma tante altre situazioni durante tutta la serata lungo il Corso del Centro Storico. Tra l'altro ci sono anche i negozi, o perlomeno si spera che ci siano i negozi aperti, comunque si potrà mangiare, si potrà fare una passeggiata, bar, ristoranti e tanti negozi del centro metteranno a disposizione un menù a sconti e sconti sulla mercanzia. Insomma è un esperimento, domani vedremo come andrà e comunque se andrà bene insomma sarà poi da potenziare. La ricetta invece dei 5 Stelle per i residenti di Metaureglia, che vivono una situazione difficile soprattutto dal punto di vista della viabilità e della sicurezza. Sicuramente ricorderete anche gli incidenti delle ultime settimane, anche mortali in quel tratto di strada, siamo nella parte sud di Fano. La ricetta dei 5 Stelle qual è? Trasformare la statale in un lungomare, elimineremo traffico così e incidenti. Dunque c'è stata questa assemblea pubblica, vedete la fotografia che si riferisce a questo incontro dei 5 Stelle con i residenti della zona di Metaureglia e loro dicono trasformare il tratto di statale tra Torrette, Ponte Sasso e Metaureglia, oggi teatro di numerosi incidenti anche mortali, in un lungomare. Di questo progetto hanno parlato i 5 Stelle, un progetto che prevede lo spostamento di gran parte del traffico dalla statale adriatica sud sulla via di Mezzo, che insieme ad una serie di intersezioni con i lavori di compensazione della terza corsia autostradale formerebbe un anello di congiunzione che passando Fano andrebbe a congiungersi alla viabilità prevista nel piano regolatore generale di Pesero all'incirca tra Muraglia e Trebbia Antico. Questa è, diciamo, l'idea dei 5 Stelle. Poi, edicole in crisi, si parla sul Corriere Adriatico, delle edicole che, ahimè, soffrono, soffrono soprattutto, o perlomeno sono costrette a vendere tutto, tranne che i giornali, nel senso che sono costrette a vendere i giochi, figurine e quant'altro. Poi, come a Pesero, qualche edicolante addirittura fa dei documenti, sono stati investiti anche di altro rispetto alla vendita dei quotidiani, dei settimanali o dei mensili. Viaggio del Corriere Adriatico tra gli esercenti. Mattioli dice siamo un punto d'incontro, ma c'è chi preferisce la rete, chi preferisce internet. E una delle edicolanti, Angela Ciano, che vedete in questa immagine, dice, si legge sempre di meno, ormai va di moda la comunicazione per immagini. Via al traffico dalla strada, la soluzione del Movimento 5 Stelle, anche qui si parla della folata assemblea che c'è stata a Metauriglia, sul progetto presentato in consiglio. Mentre, precisazione da parte di Panaroni, sulla palestra alla trave, subito il secondo stralcio. Ancora la canzone della differenziata, la canzone trash del Carnevale di Fano. Ci sono state tante critiche verso questa canzone. Così la satira è boomerang. titola il giornale rifiuti come business diffuso giudizio di inadeguatezza per qualità e contenuti. Dunque continua a non piacere questa canzone, questa iniziativa. Il messaggio in realtà censura la politica di asete comune che finanziano l'evento. Mentre, mi risola, l'amministrazione ora si contraddice. Il ristoratore non gradisce il giudizio di Cora Frattori, espresso qui al processo al Carnevale domenica sera. Botta e risposta anche sul bando. Ceriscioli esce dall'angolo. Sfido Longhi. PD, il governatore rilancia le primarie di coalizione. Le voteremo alla prossima direzione regionale del partito. Dice lui, poi la parola andrà agli alleati. Via Craxi, Pozzi del PSI. Altri facciano come Ricci. Comunisti, basta con il revisionismo. Storico. E sempre Ceriscioli era presente con Stefano Guzzi e Massimo Seri alla presentazione l'altro giorno del primo tratto che verrà realizzato tra il 2021 e il 2022 della ciclovia del Metauro che collegherà Fano a Tavernelle la ciclovia del Metauro. 4.500.000 euro stanziati dalla regione per realizzare i 16 chilometri del percorso ciclopedonale che sarà realizzato a fianco della ferrovia a una distanza di un metro e mezzo dai binari. Quindi senza smantellare i binari esistenti. C'è sempre qualcuno che spera che lì sopra ci torni a viaggiare un qualche treno. e questi soldi devono essere obbligatoriamente spesi entro il 2021. Si corre dunque per questo appuntamento e soprattutto per centrare questo obiettivo. La prima conferenza dei servizi è convocata per giovedì 20 febbraio e questa è la cartina del tracciato della ciclovia del Metauro con 74 chilometri totali. Quello in giallo, lo vedete qui, è il tratto già finanziato mentre quello rosso è il non finanziato. Mentre il tratto, questo tratteggiato, questo qua, ecco, è praticamente il tratto che non è stato finanziato ma che è in ipotesi un ulteriore sviluppo. Questa è la situazione di questa ciclovia che comunque continua a far discutere. Porti, parliamo dei porti, solo l'autorità di Ancona può risolvere i nodi della gestione. Il governatore Ceriscioli ha l'incontro in comune. Minardi dice occorre dare continuità al tragaggio. Ancora dalla nostra rassegna stampa, solo per segnalarvi questo titolo che poi riguarda un po' tutta la regione perché un po' l'Italia più che la regione, ma comunque parliamo di questo inverno che non c'è. L'inverno che gioca a Nascondino, a Civitanova, la stagione balneare parte il 29 di febbraio. Pensate, il sindaco Ciarapica ha firmato un'ordinanza e i titolari degli chalet sono dalla sua parte. Dunque, un cambiamento, quello climatico, quello che riguarda il bel tempo che è stato subito colto dal sindaco di Civitanova che ha deciso la partenza anticipata delle attività balneari che potranno dunque aprire i battenti addirittura da sabato prossimo, tra due settimane, fino al 29 di settembre. E quindi gli operatori di categoria avranno la possibilità di somministrare cibo e bevande al pubblico. La cronaca, sempre dalle Marche, ricorderete sicuramente Claudio Pinti, lo vedete in questa immagine, Claudio Pinti è quell'uomo che ha contagiato con l'HIV, con l'AIDS, la compagna, che poi è morta, e poi un'altra donna. Quest'ultima, quando si è resa conto di essere stata contagiata, ha dato l'allarme e quindi l'uomo è stato arrestato, adesso è stato condannato a 16 anni e 8 mesi. E Pinti, secondo il verdetto, quest'untore dell'HIV avrebbe negato, ha negato la malattia sempre con arroganza. Sono queste le motivazioni di questo verdetto che conferma dunque la condanna, a 16 anni e 8 mesi. Le pagine interne ancora del Corriere Adriatico, oggi apre a Vallefoglia, inaugura il primo festival dell'amore, oggi San Valentino, non poteva essere altrimenti, caccia a idee, valori e buone pratiche, parte questa mattina la tre giorni dedicata a vita, natura, felicità e benessere, coinvolti scuole e istituzioni. Alle ore 21, concerto del Diavolo e l'Acqua Santa, domani al Colosseo ci sarà invece Filippo Graziani, ecco il primo festival dell'amore che si terrà alle 100 vetrine nel comune appunto di Vallefoglia. E poi ancora da Urbino, sempre dal Corriere, accordo tra comune e sindacati, azioni contro lo spopolamento, le misure vanno dai bambini agli anziani, Feduzzi da Fermignano, il sindaco di Fermignano dice fatto tanto anche per le strutture. E poi Italia Viva che si sostiene, la Lucia Annibali in queste ore sotto attacco per la sua attività politica vicina a Lucia, serve uno sportello antiviolenza, e progetta un servizio utile, sostiene Annibali, Italia Viva e progetta un servizio utile per la città e tutto il territorio di Urbino. Sempre da Urbino è stato l'Ondei, dice il sindaco Maurizio Gambini, a rovinare le strade. Il sindaco risponde al consigliere di minoranza sui lavori lenti in via Giacomo Matteotti. I lavori proseguiranno fino alla fine di marzo, come annunciato. Il sindaco Gambini però risponde al consigliere L'Ondei e spiega che i problemi che abbiamo, dice Gambini, abbiamo avuto e sono dovuti anche ai pessimi interventi fatti dalle precedenti amministrazioni. E soprattutto, dice ancora, quando era sindaco L'Ondei, buttarono via il porfido per passare ai San Pietrini. E secondo Gambini questo potrebbe essere, questo è il problema. problema. Nel 2021 la ciclovia per Urbino, Ceriscioli anticipa il Via del Lavoro e Calcinelli con i sindaci Serie Aguzzi. Il 20 ci sarà la conferenza dei servizi su questo progetto. Il presidente della Giunta regionale ha spiegato il disegno per 12 direttrici trasversali. A spasso con il Carnevale, Cari e Lancio di Dolciumi a Fossumbrone la manifestazione rivolta ai bambini viene riproposta per sabato 22. Tiziana Trifiletti per il secondo anno consecutivo organizza questa iniziativa a Fossumbrone che si chiama A spasso col Carnevale ed è in programma appunto sabato 22 febbraio. Una sfilata di carri allegorici con animazione per bambini e lancio di dolciumi per far festa insieme e richiamare gente lungo il corso cittadino. Dalla Valle del Cesano impianto previsto su Nuova Eteri si parla del digestore anaerobico di Barchi che è stato progettato dalla Feronia SRL l'impianto previsto su 9 ettari per ricavare il metano dai rifiuti l'azienda l'ha illustrato in provincia questo progetto l'area Barchi è vicino all'ex discarica però sono state espresse delle riserve dai due comuni confinanti Sebastinelli di Terrorvenes che annuncia un'assemblea pubblica a Marotta invece questo crocevia che vedete nella fotografia l'incrocio è molto pericoloso serve una rotatoria dice il consigliere Lucchetti che chiede dunque più sicurezza tra la cesanense e la strada litoranea nuovo impianto termico a San Lorenzo in campo il Tiberini passa al metano al via i lavori al teatro di San Lorenzo in campo intervento da 50 mila euro Dell'Onti il sindaco abbandonando il gasolio avremo un grosso risparmio energetico dice il cantiere e qui ci sarà dunque un mese di stop sarà smantellato il 26 marzo in tempo per la rappresentazione del 27 del flauto magico e poi sul piano sanitario invece da Pergola la minoranza accusa l'ospedale diventerà un cronicario Baldelli se la prende con la sindaca Guidarelli esulta per le scelte della regione non comprende che i nosocomi però saranno privati persino di personale proprio e sempre da Pergola il parco dello Zolfo si allarga ingloba le miniere di Cesena per il complesso la finanziaria ha stanziato un milione e mezzo in tre anni e questa è la notizia che trovate in apertura sulla pagina anzi sulla seconda pagina della Valle del Cesano e poi anche qui si parla dell'intervento di riqualificazione del teatro Tiberini di San Lorenzo in campo le pagine pesaresi del resto del Carlino terrore in mare gommone contro il Cigno il grosso motopesca d'altura era a 8 miglia a largo di Ravenna l'equipaggio ha raccolto e soccorso 5 giovani uno dei quali è grave stavano gettando le reti quando abbiamo visto arrivare questo questo gommone in quel momento eravamo fermi stavamo mangiando qualche cosa l'ho visto arrivare il mare era calmo e la visibilità era ottima ad un certo punto però ho anche pensato che fosse un mezzo della Guardia di Finanza e mi son detto si fermeranno ho abbassato gli occhi per prendere documenti quando ci sono arrivati praticamente addosso così racconta Andrea Galuzzi 50 anni Portolotto comandante del motopesca d'altura il Cigno fino ad agosto ormeggiato davanti alla Capitaneria ora però al porto di Ravenna e lui dice io in una cosa così in 35 anni non mi era mai capitata e secondo una prima ricostruzione a bordo del comune c'erano questi cinque ragazzi del luogo che pare stessero facendo rientro dopo una battuta di pesca ai tonni non sanno nemmeno loro le ragioni per cui sono finiti contro il motopesca ma fatto sta che comunque questi cinque che erano sul gommone andando contro un'imbarcazione di ferro insomma si sono fatti male e uno di questi purtroppo anche in modo serio ancora dal resto del Carlino una banda in azione alla Tecnobite di Fermignano sparite bici per un valore di 100.000 euro razzie nelle due sedi di Canavaccio e di Fermignano i mezzi sono stati caricati tirati su issati per 7 metri fatti passare addirittura dalla finestra questo è successo a Canavaccio nello stabilimento di produzione in via del lavoro 22 una strada dove c'è una direzione tra l'altro che impone a tutte le auto di passare proprio davanti alla sede della Tecnobite perché ci sono dei lavori ne abbiamo parlato anche ieri i ladri però hanno sfidato anche questo pericolo cioè del fatto che ci fosse più traffico rispetto alla situazione normale Baia Flaminia avanti tutta parcheggio entro l'estate le proteste non frenano il Comune di Pesaro affidato il progetto esecutivo l'assessore Belloni dice presto faremo la gara se tutto va bene riusciremo a completare l'opera per il clou della bella stagione mentre come ultima pagina leggiamo quella di Pesaro che riguarda questo edificio la sede di Banca Italia che come abbiamo visto ieri sarà venduta per sarà venduta all'estero a un proprietario estero gestita quindi per farne un emporio del lusso adesso poi bisognerà capire bene come andrà ma comunque per Fratelli d'Italia è un'occasione persa per la città di Pesaro quella di aver venduto questa società questo immobile perché sarebbe stato un affare d'oro per gli uffici comunali o addirittura per la questura e questo è un punto di vista intanto la prossima settimana c'è un incontro a Roma per definire tutto il progetto e era l'ultima pagina di questa nostra segna stampa e dunque noi ci fermiamo qui vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito e buona giornata a tutti a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri